Il terzo grande investimento sul futuro è quello sulla scuola, l'università, la ricerca scientifica. È lì che prepariamo i protagonisti del mondo di domani, lì che formiamo le ragazze e i ragazzi che dovranno misurarsi con la complessità di quei fenomeni globali che richiederanno competenze adeguate, che oggi non sempre riusciamo a garantire. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza spinge l'Italia verso questi traguardi. Non possiamo permetterci di perdere questa occasione, lo dobbiamo ai nostri giovani e al loro futuro. Parlando dei giovani vorrei per un momento rivolgermi direttamente a loro. Siamo tutti colpiti dalla tragedia dei tanti morti sulla strada. Troppi ragazzi perdono la vita di notte per incidenti d'auto a causa della velocità, della leggerezza, del consumo di alcol o di stupefacenti. Quando guidate, avete nelle vostre mani la vostra vita e quella degli altri. Non distruggetela per un momento d'imprudenza. Non cancellate il vostro futuro.